Grazie a tutti. Magna magna style, magna magna style, magna magna style. Ci dicono che siamo oramai all'ultima spiaggia, che prima o poi faremo la fine della Grecia. Gli ammetti che ci cadono sulla testa come pioggia, che un urbano lo fa con la boccia. Corruzione è? Ci dividono gli appalti. Corruzione è? Soglie funzionari alti. Corruzione è? Quei ben geniuti tangenti. Corruzione è? Corruzione è? Ma in Italia c'è Mario Monti che ci proteggerà. Ma in Italia c'è Mario Monti che ci salverà. E una tassa nuova ci rifinerà. Ah 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 Oh 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 monkey, bagno bagno, bagno e sexy premier Oh 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 e sexy premier Oh 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 bagna bagna style Grazie a tutti